Se non è la legge di stabilità può essere anche una norma che va in un altro provvedimento nei prossimi settimane, questa partita ci permette ad esempio di gestire con razionalità e sostenibilità finanziaria la gestione delle competenze, sia quelle che continueranno ad esercitare le province che fino a che non interverrà una legge costituzionale sono enti che continueranno a funzionare a tutti gli effetti per una serie di competenze che la legge del Rio ha mantenuto. E per le scelte che l'Umbria sta facendo, queste sì, e che stiamo partecipando, perché noi nel disegno di legge abbiamo detto esattamente questo, che ha poco senso smontare i servizi che funzionano per ricollocarli altrove, se quello è il livello più appropriato per poterli gestire. Ok? E allora, la prima partita è questa. La seconda...